Cari amici bentornati, oggi è 25 di marzo, sono passati esattamente 8 anni da quando Francesca ci ha lasciato. Chi segue il mio canale da due anni, da quando cioè è nato, sa benissimo di quale vicenda sto parlando, ma essendosi in questi due anni aggiunte molte persone che seguono il mio canale. Non tutti conoscono la vicenda di Francesca perché i video sono molti ed è difficile andare lì da ascoltare tutto quanto. Quindi questo video per dirvi che se c'è qualcuno che ha scelto di dimenticare questa vicenda e di dimenticare come sono andati realmente i fatti, facendo finta che sia tutto normale, noi abbiamo deciso di ricordare e di ricordarla. Quindi io in questo video vi metto il link di quella che è la storia di Francesca, tra poco vedrete il link che vi comparirà in alto, basterà cliccare su quel link e potrete ascoltare quella che è stata una vicenda di una tristezza e di una vergogna inaudite. La vicenda parla da sé. Io posso solo dire che noi non dimentichiamo. Chi ha deciso di dimenticare continui pure sulla sua strada come noi continuiamo sulla nostra. Una buona giornata.